Ultimo turno di campionato del 2019 e quasi ultima spiaggia per l'Agropoli. La formazione di Mister Procopio è divenuta infatti, con la sconfitta di domenica scorsa contro il Nardò, il fananino di coda del Gione H di Serie D. Domenica 22 dicembre i Delfini sono attesi da un altro sconto diretto, dato che saranno di scena Baldagri contro il Grumentum. Servirà quella vittoria in trasferta per accorciare in classifica, se non altro per provare ad agganciare il Nardò a quota 15 ed entrare in zona play-out. I tre punti fuori casa, seppur prestigiosi, mancano dalla trasferta di Bitonto del 22 settembre scorso, da quel momento in poi appena un punto conquistato lontano dal Guariglia, lo 0-0 nel derby contro la Gelbison del 6 ottobre. Per questo motivo Procopio, squalificato per due giornate dopo essere stato espulso domenica scorsa, sta caricando a dovere i propri giocatori. Con la squadra di Finamore, il pallottoliere fuori casa deve finire. I Lucani si schienano spesso con un 4-3-1-2 a rombo, soprattutto nelle partite interne. Davanti all'under russo, la linea dei quattro è composta da Agresta a sinistra, ex Battipagliese e Picerno Carrieri, non ci sarà più squalifica, probabile l'innesto di un under al suo posto, De Gaullex, Turris, Francavilla e Visani. Il centrocampo è guidato dall'esperto Catinali, ha giocato anche in Lega Pro nel Fondi, con i suoi lati pellegrino del promettente under Lo Savio. Interessante la linea offensiva, a partire dall'estroso e cavaliere, c'è gente anche più esperta come l'eterno Fabio De Luca. Brutto ricordo per i Delfini, quando si scatenò con una tripletta nel derby contro la Gelbison del 2016. Lo sgusciante Falco, ma occhio anche a Martinez, argentino con una lunga militanza nelle serie inferiori sudamericane. Quest'anno due reti messi a segno per lui. Non ci sarà invece l'ex Bongermino, ceduto nei giorni scorsi in prestito a Rotonda, nel campione di eccellenza. L'ultima vittoria del Grumento risale a novembre scorso, proprio come l'Agropoli. Il 10 novembre sconfissero l'ossico Altamura, prima di raccogliere tre punti nelle successive cinque gare, anche se è prestigioso l'X raggiunto a Fasano. L'Agropoli, dal canto su con il vice Ferragine in panchina, dovrebbe schierarsi con il solito 4-4-2. Davanti a Sanchez dovrebbe giocare ancora una volta a Garofalo come terzino. Il pacchetto sarà completato dal duo Bonfini sgambati e da Leonetti, per non è da escludere il debutto del primo minuto di Matrone. A centrocampo, Proto, dopo una discreta prestazione contro il Nardò, dove ha sfiorato anche il gol di Tessa, potrebbe nuovamente esserci, così come Acunzio è numerato. In attacco da valutare le condizioni di Cappiello, ma dovrebbe farcela ad essere titolare. In coppia con lui è pronto Carraffiello, giovane di cui si dice un gran bene. In alternativa non è da sottovalutare la presenza di Cozzolino. Lui segnò il gol che valse la vittoria a Bitonto. Chissà che la storia, non possa ripetersi, hanno molti chilometri di distanza. Abitare all'incontro il signore Capriolo di Bari e la sua prima disegnazione stagionale in Legione H, una vittorina sconfitta per le squadre campane da due arbitrate, i suoi assistenti saranno Sciammarella di Paola e Celestino di Reggio Calabria. Fischio inizio del match è previsto per le ore 14.30 di domenica 22 dicembre allo stadio a San Chirico. Il settore ospite dello stadio sarà chiuso per dei lavori di manutenzione. Grazie. Grazie.